Sul Lago Maggiore, a pochi passi dalla quotidianità, un luogo immerso nella natura, tra animali in libertà e aree di divertimento con giostre e spettacoli dal vivo. Vieni a trovarci al Safari Park a Pombia, Novara. Safari Park Lago Maggiore, un parco non solo, un'avventura indimenticabile. Ciao a tutti voi da Rosi, oggi mi trovo in un posto veramente speciale, bellissimo. Abbiamo fatto un giro prima accompagnati dalla responsabile marketing che è Charlene De Rocchi. Dove ci troviamo Charlene? Buongiorno a tutti, ci troviamo al Safari Park Lago Maggiore, il paese Pombia, in provincia di Novara. Il Safari Park è una realtà molto particolare perché racchiude tre parchi in uno. Ovviamente il Safari, che si occupa della cura e della salvaguardia di ogni animale presente qui da noi. Poi c'è una parte pedonale del Parco Divertimenti, dove è possibile divertirsi sulle nostre attrazioni e sulle nostre giostre. E da quest'anno, una grande novità, il Safari Beach, un'area acquatica ricca di scivoli d'acqua e spruzzi acquatici. Sì, direi che per questa parte di parco siamo un pochino in ritardo, ma naturalmente voi venite a visitarlo. Perché? Perché c'è una cosa molto importante. Mentre state vedendo le immagini appunto dei parco divertimenti, quindi della ruota panoramica, dell'autoscontro, dei tronchi. Insomma, davvero ci sono tantissime, tantissime attrazioni sulle quali potrete andare e divertirvi, sia ai grandi e sia ai piccoli. Perché ricordiamo che anche magari i ragazzi, i nostri figli, i così più giovani, possono trovare veramente un posto bellissimo dove divertirsi, ma non solo. Perché io vi invito a visitare il sito perché veramente è spiegata tutta la filosofia di questo parco che è veramente molto, molto, molto importante. Sì, la mission del Safari Park è molto importante perché si occupa della salvaguardia, della cura degli animali, specialmente per le specie a via di estinzione. Ma non solo, si occupa anche del divertimento e del benessere, diciamo, dei nostri ospiti. Perché oltre a poter osservare animali e ampliare comunque la propria conoscenza sulle problematiche legate a questo mondo, c'è anche il divertimento e vari punti, sia ristoro, shop, grazie ai quali è possibile passare una bella giornata, sia per i grandi che per i piccini, ma anche per i più giovani, perché la struttura non è dedicata solo alle famiglie, ma anche ai ragazzi e ragazze. Sì, e direi che stiamo vedendo anche delle immagini appunto dei ragazzi che gentilmente hanno avuto il piacere di farsi riprendere mentre usavano appunto le vostre attrazioni. Hai fatto bene a dire, ecco, ci sono punti ristoro dove potete fermarvi tranquillamente a fare il vostro picnic, ma ci sono anche tantissimi punti ristoro proprio del food all'interno e ho visto sul vostro sito che sono diverse le proposte. Poi voi andate a cercare con calma, naturalmente, scegliete quella che vi piace di più, c'è veramente da sbizzarrirsi. Sì, il parco offre anche una struttura camping dove è possibile pernotare all'interno dei nostri bungalow, in modo da rendere completa l'avventura qui a Safari Park. E naturalmente, poi mi dicevi che sul trenino vengono spiegate anche tutte le caratteristiche, tutto ciò che riguarda anche gli animali. Sì, è possibile visitare il safari con due mezzi, o la propria auto, che è in totale sicurezza comunque, o con i nostri trenini, dove è possibile visitare il safari, però con una spiegazione, con la didattica, che ha il fine di portare conoscenza sia delle caratteristiche che delle specialità dei nostri animali. Certo, così, anche per invogliare magari i nostri ragazzi, i nostri figli, anche se secondo me c'è già un po' questa tendenza a conoscere e a rispettare la natura, a fare il possibile perché questa natura sia preservata. Allora, noi adesso andiamo con la macchina a fare un giro safari, infatti facciamo vedere, anzi ne hanno già viste qualche immagine, proprio per capire di che cosa si tratta e di che esperienza c'è. Poi andremo a parlare con Piero, che è il responsabile faunistico, e insomma adesso vi facciamo vedere ancora qualcosa che riguarda il parco, per farvi venire la voglia di venire qui. Fra l'altro, il parco rimane aperto sempre, tutto l'anno? Sì, la maggior parte dell'anno, tutti i giorni, e se non è aperto tutti i giorni, comunque nei weekend. Nel periodo invernale, nei weekend, da maggio-giugno, tutti i giorni. Perfetto, ci sono anche iniziative speciali tipo Oktoberfest, Halloween, insomma andate a seguire sul sito, troverete tutte le informazioni che desiderate. Ed ora io e Charlene abbiamo raggiunto uno dei collaboratori, anzi il responsabile faunistico appunto di Park Safari Lago Maggiore. Vuoi dirci qualcosa? Vuoi raccontarci un po' di questa magia? Certo che sia, allora buongiorno, ci troviamo adesso nel reparto Safari del parco dove sono ospitate diverse specie. Allora, è strutturato in quattro zone, due con dei grandi felini e due con degli animali erbivori provenienti principalmente dal continente africano. Ma oltre a questi, uno degli animali simbolo all'interno del Safari Park è l'area dove sono ospitati i nostri elefanti asiatici. Pensate che qualche mese fa al parco si è aggiunto un nuovo esemplare, è un maschio di 13 anni e mezzo, si chiama Engatà e fa parte di un importante progetto di riproduzione a livello europeo. Infatti il nostro parco avrà diverse collaborazioni con varie istituzioni zoologiche presenti su tutto il territorio europeo e appunto Engatà è uno di questi. Nei prossimi mesi ospiteremo nuovi elefanti all'interno del parco e attualmente abbiamo anche tanti animali rari e importanti nel parco come l'Orice dalle Corna Sciabola, l'Addax che pensate è una rarantilope deserticola che oggi conta meno di 400 esemplari allo stato selvatico e proprio qualche mese fa all'interno del parco è nato un giovane maschietto che siamo orgogliosi di ospitare all'interno della nostra struttura. Mentre nell'area dei grandi felini abbiamo due gruppi di leoni. Pensate che è presente anche un gruppo di leoni bianchi del Sudafrica all'interno del parco che potrete ammirare o con le vostre auto o con un trenino con guida a bordo che vi spiegherà in maniera dettagliata tutti gli speciali ospiti del nostro parco. Abbiamo anche un gruppo di tigri e un altro animale simbolo e importante all'interno del parco è l'asino somalo, è una rarità, sono solo 200 gli esemplari presenti in natura e qui al parco abbiamo uno dei pochissimi gruppi riproduttivi presenti in un giardino zoologico italiano. Bene, guarda, è molto interessante quello che hai detto e soprattutto sottolineerei il fatto che siete un centro conservativo perciò per le specie anche in via di estinzione e anche riproduttivo e questo mi sembra veramente interessante. Qua abbiamo visto, perché noi abbiamo già fatto il giro con l'auto e vi invito veramente a venire perché è davvero molto importante e molto bello vedere tutti questi animali che vivono insieme quindi anche mescolati fra di loro, una vita tranquilla perché veramente qui, come diceva giustamente charlene anche in auto, non hanno predatori per cui non hanno paura, per cui vivono tranquillamente ed è bello vederli così dal vivo ma poi soprattutto provvedete appunto a preservarli, ecco, a preservare anche l'estinzione in questo caso e mi sembra veramente un discorso molto molto importante andate a visitare anche il sito perché io ho visto il vostro sito, ho letto tutto quello che fate ho letto quella che è la vostra politica e mi sembra davvero una cosa molto molto importante. Siamo ancora insieme a Piero, ma prima di parlare con te Piero di qualcosa di molto interessante che mi hai già accennato, volevo far dire ancora qualcosa a te Charlene. Sì, il Safari Park è stato acquisito da un anno dal gruppo che gestisce lo Zoo Safari di Fasano dal 1993 e altre strutture turistiche come parchi d'acqua e strutture alberghiere. Ci stiamo concentrando per il Safari Park per ampliarlo e per renderlo il parco faunistico principale del nord Italia. Sì, so che avete già fatto anche in un solo anno tantissimi lavori, tantissime migliorie perciò se già siete venuti quando faceva parte della vecchia proprietà vi consiglio comunque di tornare perché troverete tantissime tantissime cose nuove. E con te Piero di che cosa parliamo? A proposito di nuove iniziative, nuove aree, anche all'interno del percorso periodonale faunistico sono tante le iniziative e le novità. Abbiamo migliorato le aree già presenti come rettilario e acquario già presenti appunto nella struttura con nuove specie e alcune chicche molto particolari. Pensate che abbiamo realizzato da poco una grotta artificiale al cui interno è ospitata una specie rarissima, unica in Italia. Si tratta dell'eterocefalo grabro. Cos'è? È la talpa nuda africana. Pensate che è l'unico mammifero che vive in gruppi eusociali. Quindi a capo c'è una regina con i suoi operai che gestiscono questa strana casa sotterranea con diversi ambienti. Quindi c'è la loro cucina, la loro toletta e la loro dispensa. Quindi qui a Safari Park potete ammirare per la prima volta all'interno di un parco italiano questo curioso ospite. Oltre a quello abbiamo aggiunto nuove specie di lemuri all'area walk-in, quindi percorribile all'interno grazie ai nostri equipe che vi seguiranno il pubblico in questo percorso immersivo nella grande foresta del Madagascar. L'attività didattica con rapaci ma non solo perché potete assistere anche al volo delle cicogne e sono tanti altri i pennuti presenti in questa fantastica dimostrazione. e man mano riserviamo delle piccole novità che ogni anno sveleremo al nostro pubblico. Certo, è interessantissimo. Tornerei per un attimo su quello che hai detto che è un animale rarissimo perché c'è un'altra piccola particolarità che fa capire anche l'importanza di questo parco e del fatto di avere all'interno questo... perché ha una molecola particolare mi dicevi. Abbiamo pochissimo tempo però... Allora, a proposito dell'eterocefalo, è un animale studiatissimo da secoli in quanto è un animale che sviluppa alcune cellule che riescono a combattere le cellule appunto tumorali, quindi è un animale interessante da ospitare all'interno del parco ma che può insegnarci anche tanto dal punto di vista scientifico in quanto è uno degli animali anche se piccolo ma molto ma molto studiato. Perfetto, grazie mille. Innanzitutto Charlene, siamo quasi arrivati al termine, ti ringrazio per averci permesso di fare questo giro meraviglioso in questo parco e vorrei ricordarvi di venire personalmente perché noi non ne abbiamo visto che una minima parte perché è davvero enorme, immenso, c'è davvero tantissimo, potete passare una giornata veramente meravigliosa con i vostri amici oppure con la vostra famiglia. Parliamo un po' appunto di come raggiungerlo, della dimensione, di tutto ciò che possono trovare. Sì, il parco si estende sulla superficie di circa 450 mila metri quadrati e il parco è facilmente raggiungibile anche grazie all'auto, tramite le autostrade e dalla stazione di Novara con l'autobus in direzione Casteletto Ticcino c'è la fermata del Safari Park. Bene, comunque tutte queste indicazioni e informazioni le trovate sul sito e vi invito anche a seguire le pagine social, giusto? Sì, siamo sempre aggiornati social, sia Instagram, Facebook, TikTok e lì potrete avere modo di essere aggiornati su tutti gli eventi disponibili al parco come Halloween, Oktoberfest e una novità di quest'anno il Safari Comics, una manifestazione a tema fumetti, supereroi e tutto il mondo nerd diciamo, che ci sosteniamo molto. Bene, bellissimo, ci torneremo sicuramente anche noi, questo assolutamente. e invito naturalmente tutti voi a venire qui, sul sito trovate appunto tutti gli orari, tutte le manifestazioni e davvero vale la pena perché insomma è qualcosa di speciale e di particolare. Grazie Sara Ren, ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci, alla prossima. Ciao! Sul Lago Maggiore, a pochi passi dalla quotidianità, un luogo immerso nella natura, tra animali in libertà e aree e divertimento con giostre e spettacoli dal vivo. Vieni a trovarci al Safari Park a Pombia, Novara. Safari Park Lago Maggiore, un parco non solo, un'avventura indimenticabile.